Collocato proprio nel centro del paese di Cavenago, Palazzo Rabsini rappresenta non solo il monumento architettonico più importante dell'insediamento, ma anche uno dei più significativi edifici nobiliari eretti nel bimercatese. Le sue vicende e le sue trasformazioni furono lo scenario e si svolsero in parallelo con quelle della famiglia alla quale si deve la costruzione dell'edificio nella seconda metà del Cinquecento, a partire dal 1575-1580 circa e che ne conservò il possesso fino all'estinzione della linea diretta di discendenza nel 1820. Quindi 1575-1820 un arco temporale di circa 240-245 anni entro il quale si proietta la parabola di una tipica famiglia della nuova nobiltà milanese dall'ascesa alla caduta. All'origine delle fortune di questa famiglia e anche all'origine del palazzo sta la figura di Marcantonio Rasini, esponente inizialmente di quella ricca borghesia milanese del secondo Cinquecento, coinvolta nel fenomeno di riconversione in beni fondiari, cioè agricoli e in titoli nobiliari, delle ricchezze accumulate nei decenni precedenti o nei secoli con le operazioni imprenditorali e commerciali. Fenomeno che, come noto, determinerà sostanziali trasformazioni nella composizione sociale del patriziato milanese del XVII e XVIII secolo, aprendo la strada alla cosiddetta nobiltà commerciante, cioè composta da famiglie provenienti dal ceto borghese commerciale, di cui anche i rasini sono un'espressione. Le acquisizioni documentarie effetturate nel corso di una attenta indagine condotta nell'ultimo decennio del Novecento hanno permesso infatti di appurare l'origine mercantile del patrimonio di questo primo esponente illustre della famiglia Marcantonio Rasini, costituito in parte dai proventi dell'attività del padre di lui, Giovanni Ambrogio, che era nato nel 1501 e che muore nel 1546 abbastanza giovane all'età di 45 anni, socio di prestigiosi imprese commerciali e finanziarie internazionali, in particolare una grande banco che deteneva con gli affaitati ad Anversa, che fu nel 500 la, diciamo così, la sede finanziaria più importante di tutta Europa. Quindi Marcantonio, Giovanni Ambrogio, socio di prestigiosi imprese commerciali e finanziarie internazionale e questi proventi vengono in parte anche dalle terre che Marcantonio aveva acquistato nell'Inter dal milanese. Alla morte di Giovanni Ambrogio, infatti nel 1546, il fratello Cristoforo ne aveva proseguito l'opera, riconvertendo in beni fondiari una parte del patrimonio ereditato dal nipote di cui era tutore, fino a garantirgli in occasione dell'estimo dello Stato di Milano del 1558 una proprietà totale di 7.603 pertiche di terreni distribuiti in diversi comuni del contado ambrosiano. Tra le nuove acquisizioni si senalano anche quelle di Cavenago, dove il 2 settembre 1551 Cristoforo aveva comperato per corto di Marcantonio, il nipote minorenne, 500 pertiche di campi, un sedime, cioè una proprietà da massaro e una casa da nobile venduta dai fratelli Giovanni Alberto e Camillo Litta di Milano, membri di un'importante famiglia patrizia milanese. E' in questo punto che si colloca l'inizio di quei rapporti fra i rasini e il piccolo centro di Cavenago destinati a durare tre secoli e a segnare profondamente le sorti dell'abitato, non solo perché a Cavenago Marcantonio concentrerà il nucleo più consistente e compatto delle sue proprietà, passando dalle 500 pertiche del 1551 alle 2.500 pertiche del 1599, ma anche perché sarà qui che egli erigerà la sua residenza campestre, la cui mole influenza ancora l'immagine e la topografia del paese. Forte delle proprietà terriere e delle rendite paterne, oltre che di una generica aura di nobiltà derivatagli dalla famiglia materna dei Tosi, raggiunta la maggiore età, Marcantonio Nasini si lancia nella scalata della piramide sociale, con l'obiettivo, ampiamente condiviso dai membri delle maggiori famiglie imprenditoriali della Milano dell'epoca, di accedere ufficialmente alla sfera della nobiltà. A ciò puntano ad evidenza tutte le sue mosse del VII-VIII decennio del secolo, a partire dalla conduzione di una vita dispendiosa, diversi documenti attestano infatti le sue incessanti richieste ai tutori per ottenere cospicui anticipi sull'eredità e sui fondi depositati presso gli affaitati antichi soci del padre, per arrivare alla politica matrimoniale indirizzata a stabilire legami parentali con la più ristretta cerchia patrizia cittadina. Prima del 1572 Marcantonio sposa infatti in prime nozze l'amatura Apollonia Costanza Borromeo, vedova del marchese di Cassano Ferrante Castaldi e cugina dell'allora arcivesco di Milano Carlo Borromeo. In seconde nozze, verso il 1580, sposerà invece la diciottenne Claudia Visconti Borromeo, rappresentante di un'altra delle più illustri e doviziosi famiglie patrizie milanese, anch'essa imparentata con l'arcivescovo Carlo Borromeo e sorella del conte Pirro I Visconti Borromeo, uomo immagine della Milano di fine Cinquecento, raffinato collezionista d'arte e futuro committente della villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, uno dei più straordinari complessi di villa campestre eretti nel contatto di Milano allo scadere del Cinquecento. Le conseguenze di tutto ciò non dovevano tardare a manifestarsi. Nel 1573, forse grazie alle aderenze dei Borromeo, il Rasini poteva infatti acquistare dalla Camera Regia il feodo di Castelnovetto nel Pavese e il titolo di conte, entrando così ufficialmente a far parte del patriziato cittadino. L'accesso al patriziato dovette però comportare, secondo il costume dell'epoca, un accentuarsi delle spese d'apparato, per sostenere un tenore di vita, more nobilium, cioè all'uso dei nobili, consono la posizione sociale raggiunta da Marcantonio. Come per altri, tra cui il futuro cognato Pirro I Visconti Borromeo, anche per Marcantonio ciò sembra aver comportato cospicui investimenti in campo edilizio e decorativo per adeguare la magnificenza delle sue residenze allo standard delle più prestigiose abitazioni patrizie del tempo. Lo lasciano intuire alcuni scarni accenni documentari che evidenziano però significativi contatti con i migliori artefici allora attivi sulla piazza di Milano, come Pellegrino Tibaldi, l'architetto responsabile tra il 1564 e il 1586 del programma di rinnovamento dell'edilizia religiosa della Diocesi di Milano promossa dall'arcivestovo Carlo Borromeo. I rapporti tra i due, cioè tra Marcantonio Rasini e Pellegrino Tibaldi, presumibilmente negli anni del matrimonio di Marcantonio con Apollonia Costanza Borromeo, sono messi in luce da una testimonianza rilasciata nel 1583, a matrimonio ormai concluso, dall'ingegnere Pietro Antonio Barca in occasione di un processo per imperizia intentato contro il Tibaldi. Nel verbale di questo processo si può leggere che secondo la testimonianza del Barca, tra le molte opere che si sanno che il Tibaldi ha falato, cioè non è stato in grado di realizzare in modo adeguato, e altre che gli sono ruinate, cioè altre che sono probabilmente crollate dopo non molto tempo, come sarebbe a dire la ruina del Tiburio di Santo Vittore, quella di Santo Lorenzo, per non saper rimediare ove andava rimediato, vi era anche una torre di signor Marcantonio Resino rovinata. Si tratta evidentemente di un accenno troppo scarno per ricavarne dati sul carattere dell'intervento compiuto dal Tibaldi nella residenza di Marcantonio Rasini. Tuttavia il contesto della cittazione attesta la notorietà dell'opera e del suo committente, segnalando altresì la familiarità del Rasini con gli ambienti dell'alta società milanese e la collocazione urbana della torre, che doveva forse servire a una qualificazione dell'abitazione del conte, analoga a quella espletata dalla torre posta sopra l'accesso di Palazzo Stampa in via Soncino, uno dei più grandiosi completi palazziali milanesi del Cinquecento, ristrutturato nel quinto decennio del secolo per iniziativa del marchese Massimiliano Stampa, allora governatore di Milano. Ulteriori spese di Marcantonio Rasini in campo edilizio sono documentati in occasione del matrimonio con Claudio a Visconti Borromeo, celebrato verso il 1580. Il 28 novembre del 1580, infatti, il nobile Paolo Paleario, procuratore del conte, liquidava al maestro da muro Pietro di Savoia la somma di 55 lire imperiali e 8 soldi per lavori di ristrutturazione del piano nobile e di ricostruzione del tetto della casa d'abitazione di Marcantonio Rasini, sita Milano, in Porta Vercellina, parrocchia di Santa Maria Podone. Ma proprio al 1575-1580 circa data anche l'erezione del palazzo di Cavenago che rappresenta, secondo le attestazioni documentarie in nostro possesso, la maggiore impresa edilizia promossa da Marcantonio Rasini nel decennio successivo alla sua ascesa al rango comitale e quindi quella cui il conte dovette affidare una funzione primaria di rappresentanza del suo magnifico tenore di vita. Ed effettivamente l'impresa risulta eccezionale se si considerano l'imponenza dell'edificio e la qualità del progetto architettonico originario reso ora leggibile dai restauri condotti nel complesso alla fine del Novecento. Nel suo contributo sull'architettura del palazzo Rodolfo Profumo ha dimostrato infatti che malgrado le ristrutturazioni del XVII-XVIII secolo il complesso conserva ancora in larga misura l'impianto cinquecentesco impianto che si è potuto ricollegare a due noti disegni di Martino Bassi uno dei maggiori architetti attivi sulla scena milanese negli ultimi decenni del XVI secolo finora indicati come varianti per il progetto di una mai rintracciata e probabilmente mai edificata casa di Piro Visconti Borromeo a Dorderio frazione di Brugherio o come pure esercitazioni progettuali messe in opera dall'architetto il rapporto documentato di Marco Antonio Rasini con Martino Bassi insieme al carattere della fabbrica esemplata sui modelli della trattatistica di Sebastiano Serlio e organizzata in modo da garantire il perfetto accordo tra le sue funzioni di fastosa residenza padronale e di sede gestionale delle proprietà rurali circostanti permette di riconoscere nel Palazzo Cabenaghese uno dei più significativi episodi di residenza rurale milanese del secondo Cinquecento perlomeno tra quelli giunti fino a noi in forme riconoscibili e documentate ciò è tanto più vero se si considera che il collegamento con Martino Bassi e la certata adattazione al 1575 e 1580 circa ne fanno un immediato precedente della villa di Pirro Visconti Borromeo cugnato di Marco Antonio Rasini a Lainate precedente forse non casuale visti i rapporti di stretta parentela tra i due committenti e vista altresì la presenza anche a Lainate di Martino Bassi che nel 1585 e 1587 vi erige il grandioso ninfeo museo del giardino e che è forse attivo anche nella sistemazione degli ambienti della villa da